Buonasera a tutti, parliamo di elezioni politiche, ne parliamo con Milena Gentile che è candidata per il centro-sinistra nel collegio Palermo Libertà. Grazie a Milena per questa partecipazione. Mi chiedo perché Milena sia candidata alle elezioni nazionali. Lei ha avuto un'esperienza di candidatura alle elezioni comunali, pensavo che già fosse stanca di questa attività politica perché lei si interessa di altre cose, ora ce ne parlerà. Invece ce la ritroviamo candidata alla Camera proprio nel collegio Palermo Centro, volendo Palermo Libertà. Grazie, grazie a voi, grazie a te per questo invito. In effetti la domanda che mi fai è una domanda molto pertinente alla situazione. Quindi sono stata brava a farti questa domanda. Esattamente, perché io stessa sono rimasta molto sorpresa. L'integno sociale è diverso e quindi ti ritrovi ora. Mi trovo, infatti, sono stata molto sorpresa dalla proposta di candidatura. Perché tu sei presidente di Emili. Sì, io sono appunto presidente di Emili che lavora da tanti anni, insomma, sono presidente dal 2014 dopo la scomparsa di Alessandra Siragusa. Ma già con Alessandra avevamo intrapreso delle battaglie molto importanti sulla promozione delle donne nella politica, nella società, nella cultura e quindi nella lotta contro i pregiudizi, l'irrigidimento di uomini e donne all'interno di ruoli fissi. Così come, diciamo, in qualche modo una lotta contro quella immagine di Italia e in particolar modo di Sicilia, che è venuta fuori anche dal rapporto ONU del 2012, perché noi, perché il commissario ONU ha fatto dell'Italia un ritratto agghiacciante, molto preoccupante, come di un paese in cui i pregiudizi, i ruoli fissi, il ruolo femminile così tanto gravato affronta invece dei ruoli maschili molto sgravati da obblighi familiari, dall'obbligo di cura, eccetera. Questo ritratto, in fondo, è quello che vediamo ogni giorno, dalle pubblicità, dei manifesti, lo sfruttamento anche del corpo femminile in modo incongruo, senza senso e quindi tutto questo costruisce e ha costruito e soprattutto perpetua una mentalità che non aiuta certamente le donne. E la politica è uno di quegli ambiti in cui vediamo una particolare discriminazione. Non a caso si trovano anche tra le candidate sorelle, mogli. compagne, cioè l'utilizzo di quegli strumenti. Come dovrebbe essere fatta la scelta dei candidati della seconda votazione? Io penso sulla come viene fatta per gli uomini, anche per le donne, cioè sulla base della storia di una persona, della storia politica, della storia di impegno sul territorio, della storia sociale. E per quanto riguarda il voto di genere, tu sei favorevole o contrario? Ma noi abbiamo, nel 2013, abbiamo combattuto per inserire nella legge elettorale la doppia preferenza di genere, perché è comunque uno strumento che lascia libero l'elettore, l'elettrice di votare, di dare, se vuole, due preferenze. Se sceglie di darne due, una, almeno che siano di genere diverso, ma resta comunque libero di darne una, se vuole. Quindi è assolutamente costituzionale, segue i principi della Costituzione, non obbliga nessuno. E questo comunque ha generato un incremento notevole nei comuni, tant'è vero che forze politiche, proprio fino a due giorni fa, c'è stato un attacco, un ulteriore attacco all'Ars per eliminare questa doppia preferenza in vista delle prossime elezioni amministrative che ci saranno in metà Sicilia. Perché evidentemente questo aumento corposo delle donne nei consigli comunali e comunque nelle istituzioni ha generato una destabilizzazione. Perché tu ti cambia al collegio Palermo Centro? C'è un motivo particolare? Intanto io nasco politicamente come consigliere della prima circoscrizione che è il centro storico di Palermo. Vivo nell'ottava circoscrizione che è Libertà e quindi gran parte... Quindi c'è un legame col territorio. Col territorio, certamente. Quanto è importante questo legame col territorio da parte di un candidato e poi eventualmente di un deputato? Beh, vista la legge elettorale che prevede collegi territoriali, è fondamentale che un candidato sia riconosciuto nel territorio, che non sia sconosciuto a chi vota, che si trovi sulla scheda, è il nome di una persona che comunque si è spesa e che ha lavorato. Come stai cercando il consenso? Qual è la tua strategia? Ma io mi muovo esattamente come mi sono mossa alle comunali, semplicemente con un porta a porta. E tra l'altro sei stata la prima dei non eletti. Sì, è la donna più votata, fra l'altro, nel Partito Democratico. Quindi anche penso che sia una delle ragioni per le quali io sono stata candidata a queste nazionali, un riconoscimento all'impegno e anche al risultato avuto alle comunali, che considerando la dispersione del voto alle comunali è stato un ottimo risultato. Penso anche che nella scelta di Renzi, che Renzi abbia fatto delle scelte ben precise comunque per i candidati, appunto la riconoscibilità sul territorio, la storia politica, perché non siamo persone che veniamo dalla luna o ne siamo portati da poteri forti o non rappresentiamo categorie privilegiate, siamo semplicemente persone che si sono spese per gli altri. Il fatto che tu sia Presidente di Emily, sei condizionata, insomma particolarmente, ti rivolgi più alle donne rispetto agli uomini o più ai giovani rispetto agli anziani? Qual è il tuo target? Allora, certamente il voto delle donne mi farebbe principalmente tanto piacere, perché sarebbe un riconoscimento al lavoro, alle tante lotte, il lavoro svolto insieme, i piantonamenti dell'Ars, i picchetti, i sit-in, tutta una fatica per difendere i diritti delle donne che essere votata dalle donne mi riempirebbe prima di tutto, mi gratificherebbe moltissimo. Ma è chiaro che io non sono una persona che si è spesa solo per le donne. Per me è stata prioritaria per esempio la gestione dei rifiuti, una delle mie battaglie è stata quella ambientale per i rifiuti, le mie denunce sulle discariche abusive sono arrivate persino in Parlamento, utilizzate in interrogazioni parlamentari, proprio perché per me il decoro, la bellezza del territorio della città è fondamentale. Forse perché sei architettico. Magari c'entra anche, perché in effetti ritengo che il decoro e la bellezza siano delle caratteristiche che elevano l'anima. La bellezza salverà il mondo. Aspettiamo che salvi Palermo perché in effetti ci sono tutte le condizioni per essere salvata dalla bellezza. Siamo pure capitale della cultura. Quindi senza volerlo, vedi, abbiamo detto che sei architetto, che sei presidente di Emili, che ti sei candidato al Consiglio Comunale, che hai fatto parte della circostruzione, che ti interessa della bellezza di Palermo. Qual altro argomento possiamo trattare? Qual è l'altra cosa a cui tieni particolarmente? Ma io penso che, a prescindere da me, perché non voglio sembrare... A parte la tua amica che ci sta riprendendo interamente. Eh sì, sì, infatti io ho le mie amiche di Emili che mi seguono sempre ovunque. e quindi... e questo mi... veramente mi rende felice. E il loro sostegno proprio è... sono entusiaste, sono felici di... della mia candidatura. Quindi mi piace molto questo. Un grosso apporto. Dico, qual è la cosa che più... Ma... io penso... non voglio sembrare presuntuosa, però se dovesse... Il palermitano, le palermitane e i palermitani, se dovesse scegliere me, come candidato nel Collegio Libertà, come il candidato più rappresentativo, la candidata più significativa, penso che questo sarebbe un segnale di grande maturità e anche di riconoscimento di tanti fattori. Il riconoscimento che una persona debba avere una storia politica, debba avere dimostrato con la sua vita, con il suo impegno di essersi spesa per la città, e per le città, per i diritti comunque, e poi perché... anche un segnale di speranza. Nel senso di voler credere che questa continuità, per esempio, questo legame forte tra il governo Renzi-Gentiloni e l'amministrazione della città, l'amministrazione Orlando, che già ha dato dei frutti importanti sull'incremento del turismo del stagionalizzato, è un effetto che è davanti agli occhi di tutti, ed era quello a cui si puntava principalmente. Questo nuovo fermento internazionale, il fatto che Palermo sia diventata, in questi tempi recenti, comunque un obiettivo di tanto turismo libero, di tanti turisti che per la prima volta sentono parlare di Palermo, e non per la mafia, e non per le fiction... Sì, però sai, debbo dire, condivido in parte quello che tu dici, però debbo... una piccola nota che ti può servire. È stata ospite una cittadina, ora palermitana, però russa, la quale ci diceva che alcuni russi venendo a Palermo camminavano a testa bassa, e lei non si spiegava come mai non ammirassero le bellezze di Palermo, perché dice, erano impegnate a guardare i marciapiedi rotti, allora dico, noi dobbiamo fare in modo che ci sia un intervento complessivo nella città di Palermo, perché è veramente un peccato per le cose che abbiamo detto prima, che Palermo, tanto bella, non venga curata nel migliore dei modi. Senza dubbio. Ciò, per questo, una domanda che è importante, quanto può incidere la presenza di un determinato candidato nella vittoria finale, diciamo, nel collegio, dello schieramento che rappresenta? Io mi auguro che questo possa incidere, che le persone, prima di mettere una croce su un simbolo o sul nome dell'uninominale, riflettano... Perché questo potrebbe fare sfasare i sondaggi, chiaramente. Sono dei sondaggi che dicono alcune cose, però tutto può cambiare la propria relazione ai candidati. E mi auguro che questo abbia un peso, perché purtroppo si sa che le campagne elettorali nazionali sono campagne mediatiche, che si fanno in televisione, ma si fanno alle televisioni nazionali, quindi alla fine si scontrano i leader nazionali e purtroppo molte persone votano di pancia, cioè per simpatia o antipatia per il leader di partito, non pensando che poi il loro voto contribuirà a fare scattare il seggio... Pensando al loro rappresentante. Esattamente, a fare scattare un seggio a una persona che potrebbe non rappresentarli per niente. Quindi è bene che io invito, infatti, gli elettori e le elettrici a guardare chi sono i primi delle liste del proporzionale, chi sono i candidati dell'unilominale e approfondire la loro storia, perché questo può fare tanto. Alla fine in Parlamento non entreranno simboli di partito, ma entreranno persone. Secondo te quanto può essere diverso il voto in Sicilia rispetto all'Italia? Oppure sarà il resto dell'Italia? Oppure sarà uniforme? Allora, sicuramente il problema della Sicilia è un sottosviluppo storico, cioè che ovviamente parte dall'unità d'Italia e purtroppo per anche una storia di cattiva politica, di una politica ascara che ha tradito il territorio, che ha tradito la terra, la Sicilia, si è mantenuto nel tempo. Un sottosviluppo che provoca rabbia inevitabilmente, perché il voto è sicuramente più condizionato, ma sarebbe un paradosso, perché dopo quanto è stato fatto dal governo Renzi Gentiloni, dai governi Renzi Gentiloni per la Sicilia, il fatto, parlavi poco fa di decoro del territorio, il fatto per la Sicilia, se vuoi fare l'appello, i 37 miliardi di euro in lavori di manutenzione, questi sono stati dati a Palermo, vi dico tante cose, il resto al sud, la legge per i giovani siciliani. L'appello perché debbano votare per Milena Gentile? Ecco, vuoi fare l'appello? Ecco, lo puoi fare. Eh no, perché ho già detto in effetti che per me, io mi appello appunto a una consapevolezza dell'elettore, che l'elettore prima di mettere la croce che sarà determinante per la vittoria di una forza politica, rifletta soprattutto su quello che è stato fatto realmente e non voti per antipatia o simpatia, e pensi a quali candidati, a quali candidati sta dando forza, perché potrebbe dare forza a persone transfughe, a persone che non hanno una storia, hanno una storia di trasformismi politici, e questo non sarebbe una garanzia per nessuno. Perfetto, ci dobbiamo fermare, abbiamo esaurito il nostro tempo, è volato, io ti ringrazio per questa partecipazione, sono sicuro che ha registrato tutto l'amica nostra, quindi siamo a posto. Grazie ai telespettatori, Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, parliamo di elezioni politiche, ne parliamo con Filippo Occhipinti, che si candida con la lista Liberi e Uguali, ed è candidato nel collegio Palermo Settecannoli. Caro Filippo, ancora un'altra battaglia, ti sei candidato al Consiglio Comunale, poi alle regionali, e ora alla Camera con Liberi e Uguali. Chiaramente devi un pochettino spiegare questo tuo percorso, perché è giusto che i cittadini capiscono il motivo della tua candidatura. Sì, sì. Intanto sono candidato sia nel quartiere, nel collegio uninominale Settecannoli, ma anche su tutta Palermo con il plurinominale, questa legge elettorale un po' difficile da capire, ma semplicissima da votare, perché basterà una sola X che si vota per tutto, praticamente. Comunque questo è un argomento. Non è importante conoscere il candidato. Assolutamente no, basta mettere una X. Ecco, il motivo per cui ho deciso poi di rifare la termissione elettorale che prima non volevo fare era proprio questo, l'esigenza di fare conoscere ai cittadini palermitani chi sono i candidati nelle varie liste. E' un tentativo ardo perché di alcuni non si riesce nemmeno a trovare il numero di candidati. Ma è giusto perché questo fatto che ci sono i collegi uninominali dovrebbe permettere al territorio di capire effettivamente chi è il candidato che poi andrà a rappresentare quel territorio. Non si fa, non si è fatto, c'è un silenziatore quasi inquietante a livello nazionale su queste elezioni, tant'è vero che siamo a pochi giorni dalle elezioni e non c'è neanche un manifesto appeso se non qualcosa di partito. Dico, è veramente una campagna elettorale anomale e strana, ma a prescindere da questo, ritornando al discorso della mia candidatura, praticamente io mi, intanto sono candidato con il Libero Uguali, anzi con Sinistra Comune al Consiglio Comunale. Cioè tu prima che iniziaste a stare al ministro, mi dicevo io sono uno di sinistra, quindi che sto portando avanti. Voglio portare avanti politiche di sinistra, politiche di sinistra sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello economico, e poi magari se vuoi entriamo nel merito di quello che è stato fatto dal governo attuale, dai governi precedenti, e cosa invece secondo Libero Uguali si può e si deve fare. E naturalmente andando, diciamo, dietro a un progetto di sinistra, naturalmente ho appoggiato Sinistra Comune al Consiglio Comunale, dove mi sono candidato, non mi sono candidato alle regionali, e poi comunque ho appoggiato la lista 100 passi di Fava, e poi ora mi hanno chiesto di rappresentare Libero Uguali nel collegio uninominale, parliamo di Sette Cannoli, e io ritengo che sia un collegio difficilissimo per il nostro modo di intendere, un collegio praticamente molto sbilanciato sul centro-destra, magari ci sarà pure il 5 Stelle che avrà la sua, e quindi poter riconoscere il candidato doveva essere un'opportunità in più per il territorio. Invece c'è stato questo strano silenzio, anzi ti ringrazio che tu hai fatto, mi dai questa opportunità, e dai opportunità di conoscere anche gli altri candidati, così la gente almeno sa di chi sta andando a votare. Anche se il nome non si metterà, basterà una semplice X sul simbolo, e voti per tutto, sia per il collegio di Sette Cannoli, che per tutta Palermo sul plurinominale. È una legge strana forse, forse ci trattano anche da analfabeti politici, ritorniamo alla X quando si firmava con la X, non so se c'erano quando l'Italia era analfabeta e molti firmavano con la X, mi sembra qua la stessa cosa. Una legge elettorale veramente quasi peggio dell'Italia, come se possiamo dire, anzi non quasi. Si firmava con la croce, si può mettere la croce per appostare definitivamente l'Italia. Ti dico, questo è un fatto indubbiamente strano, tu poco fa dicevi però la sinistra non sarà mai unita, ci porta avanti un ragionamento di sinistra, però chiaramente se la sinistra non è tutta unita, non si possono affermare alcuni principi che tu ritieni siano di sinistra. qual è il motivo di questa continua divisione? E' per la rifondazione comunista che fa una lista addirittura... Per carità io rispetto le idee di potere al popolo, di rifondazione comunista... No, no, che poi è difficile da individuare perché io di fatti non sapevo precisamente che fosse rifondazione comunista ad avere presentato potere al popolo. un'idea di cos'è in questo momento sinistra e cos'è qualcosa che si perde, perché per carità la legge elettorale è quella che è, però andare a fare una lista che probabilmente non supererà l'1% o il 3% o quello che sia, che è ancora peggio, non avrà neanche un rappresentante, invece unendoci probabilmente anche questa lista avrebbe avuto i suoi rappresentanti in Parlamento e avrebbe potuto continuare a fare politica. dopo il 4 marzo che succederà? Ci saranno rappresentanti di sinistra in questo Parlamento? Io mi auguro di sì, mi auguro che siano di liberi uguali perché abbiamo un programma serio e contatto. Mi auguro pure, guarda, vado pure al paradosso, che ci sia pure un rappresentante di potere al popolo e di rifondazione perché per me l'idea di pluralità, di idee all'interno del Parlamento è ricchezza, non è uno svantaggio. Il fatto dell'ingovernabilità è una fantasia che ci hanno sempre raccontato, ma poi alla fine si governa sempre, fanno sempre un governo, riescono a farlo, qualsiasi sia le forze politiche all'interno del Parlamento. E se non ci sono, nel passato qualcuno ha pure, tra virgolette, fatto campagna acquisto, lo sappiamo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Io ritorno a dire, voglio portare avanti un programma, più che un uomo, con tutto il rispetto per Grasso, che è una persona rispettabile, una persona che ha le sue idee di sinistra perché ce ne ha forte, l'altro ieri ha incontrato Corbyn, quindi c'è una forte attrazione per le politiche di sinistra anche a livello europeo. Però io voglio portare avanti un programma perché se noi portiamo avanti sempre gli uomini, alla fine ci ritroviamo ad avere partiti padronali, come è successo con Forza Italia, con Berlusconi, come è successo col PD di Renzi, che purtroppo di sinistra non ha più nulla, soprattutto nelle politiche economiche. in questi anni perché nasce Liberi Uguali? Perché la sinistra all'interno del PD ha il malcontento, non esiste più una politica economica seria di sinistra che possa riportare a quello che poi è l'applicazione della Costituzione, quello che poi Liberi Uguali vuole fare, applicare di nuovo la Costituzione. Non c'è nulla di rivoluzionario. La Liberi Uguali non è riuscita ad aggregare le sinistre, perché ogni volta nasce la sinistra e la sinistra, poi la sinistra e la sinistra e la sinistra. Esatto, ma su questo sono d'accordo con te. Però ritorno a dire, abbiamo un bel programma di sinistra, vi invito a leggerlo sul sito di Liberi Uguali, esplicitato, è un bel programma, se avremo qualche minuto, magari ti darò qualche battuta sul programma, ma sicuramente saranno gli elettori a decidere. Ne ha facoltà, quindi cosa vuoi dire del programma? Vabbè, intanto il primo punto in assoluto è... Io ti volevo dire la mia domanda principale era quella del tuo legame col territorio, quanto incide sulla tua candidatura e che apporto tu potresti dare? Qual è l'importanza dei singoli candidati nel territorio? Ha un'enorme importanza, ma se avessimo la possibilità di farci conoscere da tutto il territorio, perché io naturalmente andrò, diciamo, dalle persone che penso che mi possano aiutare all'interno del territorio, che mi stimano, che magari mi conoscono per altre vie, ma se poi io devo andare a trovare delle persone che non conoscono, mi troveranno a me davanti, ma chi è questo? Non hanno il tempo di realizzare che magari una trasmissione televisiva ad ampio raggio all'interno di questo territorio, fatta con tutti i candidati del territorio, avrebbe avuto un effetto forte, e sicuramente, diciamo, perché l'uninominale è io contro il candidato dell'altra coalizione, quindi a prescindere dalle idee delle coalizioni, tu per esempio nel tuo collegio conosci gli altri candidati? Sì, conosco gli altri candidati, avete avuto modo di confrontarli, li conosco perché è vietato confrontarsi, è vietato il confronto, è una cosa, la legge elettorale è perfetta, perfetta proprio per me, io dico che c'è un silenziatore messo, un silenziatore inquietante, quasi da, non lo so, da chi le raggio, un grande passo verso la democrazia, no, questo qua, lo Satellum è peggio dell'Italicum, ho detto forse è peggio, no, è peggio dell'Italicum, ed è peggio dell'Italicum, ma anche il fatto che voi stessi avete dei problemi a fare le trasmissioni, dovete fare il bilancino sui secondi dati a un candidato ad un altro, che poi sapete benissimo che poi rimane molto. Noi abbiamo quella difficoltà di intracciare i candidati, eh, dico neanche se neanche ce l'ho. Cioè doveva essere al contrario, che il candidato doveva chiedere alle emittenti di essere invitati, noi invece questa volta, contrariamente rispetto alle altre volte, abbiamo difficoltà perché non conosciamo alcuni candidati, però dico che questo è il nostro compito. Per il tempo che mi rimane, anche parlando di quello che è il programma dei libri uguali, che direi che integralmente potete andare a visitare nel sito, è nato che stiamo facendo una campagna elettorale di squadra, faremo campagna elettorale attraversando la città, per quello che diciamo riusciremo a fare con i mezzi che ci abbiamo a disposizione. Però non dire facciamo squadra perché è lo slogan di un altro gruppo. Sicuramente, però sicuramente la legge elettorale ti impone di fare questo gruppo, non c'è nessuna scoperta, né nessun slogan da parte di lato. Quali sono allora i punti più per te importanti del programma? Intanto la prima cosa è riportare l'Italia a un lavoro che non sia più precario, ma che sia quello che abbiamo sempre conosciuto. Andiamoci al contrario, la gente che cosa aspetta che tu gli dica? Sicuramente la gente vuole in questo momento, soprattutto in Sicilia, che ritorni a fare delle politiche sul lavoro e soprattutto che si eviti che i nostri ragazzi vadano a fare gli emigranti di lusso negli altri paesi, o comunque emigranti. E questo è secondo me il sentimento che c'è in questo momento in questa terra. Ora andare a ribaltare questo, naturalmente bisogna ribaltare la realtà, perché se noi votiamo sempre gli stessi che ci hanno portato a questa realtà, i nostri ragazzi continueranno ad emigrare, il lavoro qua non ce ne sarà mai. Si deve completamente riportare la centralità dei bisogni delle persone all'interno delle politiche del Parlamento. Tutto ciò può essere fatto solamente applicando la Costituzione, che poi non è una cosa rivoluzionale, ce l'abbiamo là da tantissimi anni, è una cosa quasi straordinaria. La modernità della Costituzione è proprio quella di riapplicare, tornare a dire che la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Questo è il primo articolo. Allora se non si fanno politiche di lavoro, ma lavoro non... Viene inteso in senso restrittivo, il lavoro ma non per tutti, solo per alcuni. Esatto, ma no, il lavoro per tutti, tanto è vero che noi abbiamo nello slogan liberi uguali, che non significa che qualcuno è equivocato su quell'uguali, liberi, vabbè si capisce, liberi da certe imposizioni, fatte anche dall'Unione Europea, che bloccano queste politiche di lavoro, anzi le precarizzano, come succede col Jobax e con tante altre cose. Ma sicuramente uguali, ma uguali significa praticamente che i cittadini devono avere pari opportunità con tutti, quindi, cioè come dice la Costituzione, chi nasce in famiglie meno ambienti o più ambienti devono avere le stesse condizioni di possibilità di sviluppo e per sviluppo intendo non soltanto pari opportunità di lavoro, ma soprattutto si parte da quello che è un punto fondamentale del programma di Leo, dall'istruzione della formazione. Quando si dice tasse universitari gratuite, non si vogliono avvantaggiare i ricchi, questo che lo sappiano le persone, anzi, in questa maniera, se noi il costo che in questo momento viene coperto dalle tasse universitarie lo spostiamo nella fiscalità di ferita progressiva, che sembra una cosa difficile, ma poi che nelle nostre tasche è l'IPERF che paghiamo ogni giorno, o comunque chi lavora paga l'IPERF, quella fiscalità di ferita progressiva è un elemento che invece andrà a fare pagare di più a quei ricchi che, tra virgolette, non pagano le tasse universitarie. Cosa voglio dire? Faccio un esempio. Berlusconi, i fili Berlusconi, faccio Berlusconi perché è l'elemento che si capisce meglio, i fili Berlusconi, a un'università pubblica non ci andranno mai, quindi tasse universitarie non le pagheranno mai. In questa maniera, abolendo le tasse universitarie e spostandole sulla fiscalità di ferita, perché il costo non può scomparire, il servizio di istruzione lo devi dare, le formazioni, in questo caso universitarie, viene spostato e verrà fatto pagare a chi ha di più, come dice l'articolo 53 della Costituzione. Quindi i ricchi, come dicono qualcuno, non pagheranno. Non è vero, pagheranno molto di più. Forse copriranno quel costo di tasse universitarie integralmente loro. Ora, dovremmo fare i conti. Il che cosa significa? Che andiamo a liberare risorse per le famiglie, che in questo momento famiglie che, diciamo, sono più o meno ambienti, che comunque pagano, in questo momento i meno ambienti non pagano, ci sono le esenzioni, ma le famiglie che stanno stentano, hanno tre figli, due o quattro figli, che hanno il famoso ISEE, andrebbero a liberarsi di 2.000, 1.500 euro l'anno. Poi ci sono naturalmente da aggiungere altre cose, dovremmo fare borse di studio, dovremmo incentivare tutto. Questo è un programma che riguarda la scuola, ma anche sul fisco. Ritorniamo al fisco. Dicami, hai un minuto. Se vorrevi scegliere di parlare di te, perché debbano votare te? O parlare del fisco? Io dico soltanto che la mia professionalità riguarda l'ambiente delle tasse e del lavoro, sono commercialista e revisore, nonché sono bancario. Ho fatto un'esperienza di cinque anni al Consiglio Comunale dove ho raggiunto dei piccoli risultati lavorando di opposizione. Ricordiamoci che ho fatto più opposizione che il governo, anche se ho appoggiato molte scelte di Orlando all'interno del Consiglio Comunale. Però sicuramente ho dato il massimo, ho conosciuto il territorio, conosco Palermo e soprattutto conosco quelle zone dove sono stato ubicato, ma conosco tutta Palermo e i problemi che ha Palermo. E principalmente il problema di Palermo è riportare politiche di lavoro in questa città, dare centralità alla Sicilia ed è questo che voglio fare andando in Parlamento. Cioè portare la Sicilia dentro il Parlamento, ridiscutere tutto ciò che è stato fatto, quantomeno tentare di ridiscutere tutto ciò che è stato fatto sbagliato alla croce. Ci contentiamo di portare Palermo in Parlamento. Io sicuramente ci riuscirò, ma io ho una visione più ampia perché se la Sicilia sta bene sta bene pure Palermo. E Palermo deve stare bene perché ha tutte le potenzialità per stare bene e ha bisogno di rappresentanti di territorio che conoscono Palermo e non del passato. Il ritorno al passato è una cosa sbagliata. Se la gente si continua in Caponino a votare sempre le stesse persone, sempre gli stessi partiti, non cambierà nulla. Bastava mettere un limite alle candidature nella legge elettorale, c'è due mandati ed era fatto, non l'hanno voluto fare a cominciare da Grasso però. Sicuramente, diciamo, ci sono degli errori che vanno col rete. Degli errori, quindi fermiamoci qua senza polemiche. Io ti ringrazio per questa partecipazione, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.